Restyling per il murales di Venturino Venturi a Castelnuovo dei Sabbioni, nuova inaugurazione all'inizio del prossimo mese, anche con una novità che riguarda peraltro la storia dell'intera comunità. L'inaugurazione il 4 luglio è un'opera a cui teniamo molto per il valore artistico e simbolico che ha. Siamo stati un po' indecisi nel scegliere come completare questa zona di Castelnuovo perché avendoci un'opera così importante come Venturino era una scelta complicata. Alla fine abbiamo pensato di realizzare, di incidere diciamo su questi pannelli, di dipingere per la verità, perché poi si tratta di una pittura, una poesia che è quella di Alessandro Parronchi che scrisse nel 1992 proprio quando venne ad accompagnare Venturino Venturi ad un'assemblea nella quale fu deciso la realizzazione del murale di Castelnuovo. È una poesia molto bella, molto importante che parla di Castelnuovo, dei suoi ecidi e anche spiega quello che è il significato e il valore del murale. In quello scritto peraltro si parla anche degli ecidi di Cavriglia, quindi si aggiunge storia cittadina ad un simbolo della frazione.